Cominciamo insieme questo itinerario di quaresima. Nella versione secondo Marco, dal numero dei versetti, già si capisce tutto. Potremmo dire che il numero dei versetti già ci dice qual è il significato della sua versione. In tutto, quattro. Siamo a capitolo primo, versetti 12-15. Marco è l'emblema dell'essenzialità. Guarda caso, anche la quaresima è il tempo per tutti dell'essenzialità. Quando pensiamo ad un fioretto, quando pensiamo a qualcosa, dobbiamo sempre pensare che in realtà la quaresima è il tempo di ridurre tutto l'essenziale. Così come ci dicono questi quattro versetti di Marco. Tutto l'essenziale senza troppi fronzoli, senza troppe descrizioni, come fanno anche gli altri evangelisti sinottici. Marco va subito all'essenziale. Ci dà subito un concetto diretto pronto in questi quattro versetti e ci indica anche il cammino della nostra quaresima. Riduciamo le parole, riduciamo la nostra vita, riduciamo la nostra frenesia, riduciamo tutto ciò che potrebbe essere superfluo per essere più essenziali. Ciascuno di noi sa che cosa deve ridurre e riportare al micro rispetto a quello che faceva prima. Primo versetto. Si dice subito quello che tutti i sinottici dicono, e cioè che è lo spirito che spinge Gesù subito dopo il battesimo di Giovanni. Il verbo l'abbiamo trovato anche domenica scorsa. Ecballo significa proprio lanciare nel deserto. Sembra strano che sia proprio lo spirito a prendere Gesù e a sospingerlo, ma in realtà è proprio lo spirito che porta Gesù nel luogo deserto, perché Gesù possa compiere in tutto la volontà di Dio. E che cos'è questo luogo deserto? Il luogo in cui Giovanni Battista battezzava, ma è anche questo luogo dell'essenzialità. Nel deserto non si trova nulla, non si trova cibo, certe volte non si trova nemmeno l'acqua. Lo spirito spinge Gesù verso il deserto della sua vita. E nel deserto c'è un altro rompare il numero famoso, numero per antonomasia della quaresima. 40 giorni. In realtà nella terminologia biblica il 40 è il numero di una generazione intera. È come a dire che Gesù resterà tentato da Shatanda, Satana, che è l'immagine omnicomprensiva di tutto il male che c'è nel mondo per tutta la sua vita, non solo per 40 giorni. E questo ci dice già una prima caratteristica. La tentazione in realtà è una tentazione continua. Non è qualcosa che si riduce meramente, esclusivamente a 40 giorni. Gesù viene tentato per tutti i suoi giorni. Dal battesimo di Giovanni ne uscirà come un grande esodo il giorno della sua morte. La seconda è che se la tentazione fosse peccato Gesù non sarebbe mai stato tentato. La tentazione non è un peccato e non è mai semplicemente una istigazione al male. La tentazione è una proposta per rinunciare a Dio. Nei momenti cruciali, quando tu sei con l'acqua alla gola, quando la sofferenza ti schiaccia, quando i problemi ti rincorrono, tu lì sei tentato di rinunciare a Dio. La scelta che provoca quella tentazione ti porta verso il bene o verso il male. Ecco perché Gesù è tentato. È tentato nel momento della scelta. Come ciascuno di noi, spesso siamo tentati a fare l'una o l'altra scelta. Il problema della tentazione è risolverla verso il bene. Quante volte noi pensiamo, ma facciamo questa cosa, ma rubiamo, prendiamo, diciamo una bugia, facciamo qualcosa. Pensate al cammino della quaresima come quel cammino in cui dobbiamo cercare in tutti i modi di risolvere ogni tentazione verso Dio e verso la verità. Con chi stava Gesù? Due personaggi, le fiere e gli angeli. Chi sono queste fiere? Queste fiere sono quelle raccontate nel libro del profeta Daniele, Daniele 7. Era un libro profetico, chiaramente, ed era il potere politico che governava con l'oppressione all'iscapito dei piccoli. Allora Gesù la sua tentazione la vince confrontandosi tutti i giorni con questo potere politico opprimente. Che altro non è? La forza di tutti coloro che vogliono contorcere la storia con il potere, che vogliono risolvere le cose con lo potere e con l'oppressione. D'altra parte ci sono gli angeli. Gli angeli sono i mediatori di Dio. L'angelion è colui che porta il messaggio di Dio. Sì, anche Gesù è stato contornato di angeli, i suoi genitori, la sua famiglia, i discepoli, le donne che lo seguivano. Tutti coloro che in un certo senso gli hanno portato aiuto e lo hanno sostenuto. Così il tempo della quaresima è il tempo in cui anche tu devi decidere chi essere. Se vuoi essere una fiera, cioè uno che con la forza, con la violenza, con le parole vuole risolvere tutto, o se vuoi essere un angelo, cioè una presenza che silenziosamente si mette accanto per fare del bene. E poi l'ultimo versetto. Il regno di Dio è vicino, il tempo è compiuto. Gesù ha cominciato dalla Galilea, dalla terra dei margini, a proclamare il Vangelo, perché lui è presente nel mondo. Non c'è più tempo. Convertitevi, ecco questo verbo metanoeo lo sentiremo spesso in questa quaresima, e credete al Vangelo, dove metanoeo è proprio metanus, significa andare oltre il pensiero. Allora nel tempo della tentazione, quando le oppressioni, il regno del male, ci chiedono di continuare a fare del male sull'alterra, a promuovere il male, la tentazione è il luogo in cui noi, attraverso la forza di Dio, la vinciamo, rientrando nel deserto di noi stessi, andando al di là di quel pensiero. Quando tu sei tentato a fare del male, devi andare sempre al di là di te stesso, al di là del pensiero, per riportare il bene sulla terra. Buona Quaresima a tutti.